Cascia, stai vivendo come in un incubo in questi giorni. Come ti senti? Qual è il tuo umore? Dopo un paio di giorni finalmente ho trovato il mio umore. Sto preparando le valigie, parto stasera a casa, vedrò tutta la mia famiglia e quindi mi alzo un po' l'umore, quindi non mi lamento. Quali saranno le prossime mosse? C'è la rottura del legamento, ora vai a farti visitare in Polonia? Sì, vado direttamente al mio dottore che ci conosciamo da prima, mi fido molto di lui perché è un ottimo ortopedico, mi opero forse fino a questa settimana oppure inizio della prossima, dopo sto un pochettino ferma e tutto tempo per recuperare per me. Cascia, come sei stata in questi mesi a Bergamo? Sono stata molto bella. Stacca!